state pensando la vostra futura casa e siete alla ricerca della cucina dei vostri sogni il 29 ottobre iuri arredamenti inaugura nuovo centro cucine un evento in cui poter scoprire le ultime tendenze nel settore cucina living con marchi come veneta cucine e aran cucine in esclusiva nazionale iuri arredamenti vi presenta convivium la cucina tedesca di ultima generazione dove tecnologie design rendono la vostra quotidianità armonica e funzionale venite a trovarci il 29 ottobre a partire dalle ore 17 nello showroom di ariano erpino vi aspettiamo ariano